Ha superato la notte contro ogni previsione il boss Matteo Messina Denaro che da ieri sera è in come irreversibile. Sanitari hanno smesso anche di dare l'alimentazione parentale. Trent'anni di latitanza, la sua fine all'Aquila. Il boss fu arrestato il 16 gennaio mentre si recava in una clinica di Palermo per la chemio. Al capezzale la figlia Lorenza che il boss ha incontrato per la prima volta proprio nel carcere aquilano e che da poco ha riconosciuto e la nipote suo legale. Da giorni non essendoci più presupposti per una terapia attiva come aveva dichiarato il reteotto l'oncologo Luciano Mutti che lo ha seguito in tutte le fasi, era sottoposto alla terapia del dolore in capo al professor Franco Marinangeli. Il boss nel suo testamento ha dichiarato di non voler subire l'accanimento terapeutico con l'uso di macchine per essere in vita. Il ricovero del boss risale allo scorso 8 agosto per essere sottoposto a un intervento chirurgico riuscito, poi l'aggravamento delle condizioni di salute a causa del tumore. Per lui però non un normale reparto, una decisione accolta tra le polemiche sue dei familiari, una cella di massima sicurezza guardato a vista. Messina Denaro in tutto questo tempo è stato ascoltato più volte dai PM di Palermo, è sempre stato chiaro, non avrebbe mai collaborato con la giustizia, anzi più volte ha dichiarato di non essersi mai pentito. Ha detto anche ai PM che se non fosse stato per la sua malattia non l'avrebbero mai preso. Un boss fantasma per 30 anni spalleggiato da una rete di collaboratori che lo hanno aiutato nella latitanza. Sulla sua testa una marea di condanne, compreso l'orgastolo, ha messo la mano nei più gravi fatti criminali degli ultimi 30 anni, a partire dalle stragi del 92 costate la vita a Falcone e Borsellino. È ritenuto pure il mandante della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo per punire il padre Santino, strangolato e sciotto nell'acido a soli 12 anni. Ovviamente ora la ASL si sta organizzando per le fasi successive alla morte del boss e per la riconsegna della salma alla famiglia. Tutto sarà supportato da polizia, carabinieri, finanze e l'esercito senza contare che al momento l'ospedale è presidiato da tantissimi agenti in Borghese.